L'interessante fenomeno vulcanico della solfatara di Pozzuoli che attira l'interesse degli scienziati e dei turisti. Mentre nella bocca della grande solfatara si è recentemente prodotto un nuovo soffione in seguito ad una spontanea esplosione nella pittoresca conca del vulcano semispento, a poca distanza si è aperta una nuova bocca eruttiva che misura 3 metri di diametro e ha una temperatura di 200 gradi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!